Miki Rourke è stato sorpreso dai fotografi di Novella 2000 con un look decisamente stravagante, lontano dal fascino degli esordi che lo aveva reso uno degli uomini più sensuali del mondo Fascia nera in testa e cagnolino tra le braccia, Rourke sfogge una chioma nera che lascia pensare si tratti di una parrucca, accessorio già esibito in altre occasioni Ha 63 anni, dunque, il vivo del cinema che grazie al pugilato adesso vanta un fisico decisamente scolpito, continua a far parlare della sua estetica, già oggetto di discussione in un passato pur costellato da tantissimi successi professionali Numero 1 Not Cloudy Day Una foto pubblicata da Miki Rourke, chiocciola Miki sottolineatura Rourke sottolineatura, in data, 5 settembre 2016 alle ore 19.01 pdt Nel